La piazza del municipio, i manifestanti che sono stati allontanati dai luoghi di raccolta, so che sia all'università o che sia dalla piazza città della stazione, si stavano concentrati in migliaia nella piazza del municipio che ora è stata chiusa dalla polizia che ha dato in questo momento l'avviso di Sgondaro. Dalla mattina più di cento manifestanti si sono presentati in piazza brandendo la carta costituzionale tedesca per richiedere il diritto a manifestare. Come vedete la polizia ha chiuso su quattro lati e non fa più accedere nessuno. Continua da due giorni la protesta in una città militarizzata. Il problema degli spazi di democrazia e il problema di poter manifestare diventa nell'Europa della crisi un problema fondamentale, una questione che non può essere risolta con uno stato di polizia. Da giorni leggiamo anche sui giornali tedeschi che questo è un problema che si stanno ponendo perché non era mai successa una cosa del genere. Come sta risposta come quella di ieri pomeriggio e ieri sera nella piazza dove doveva finirsi il Take the Square dimostrano che c'è ancora la possibilità e la volontà di riconfussare spazi per tutti, spazi di democrazia, spazi di protesta. Tutti gli attivisti che questa mattina sono arrivati a Francoforte stanno arrivando lentamente nella piazza del municipio. Intorno al cordone di sicurezza formato dalla polizia che ha chiuso su quattro lati i manifestanti che da questa mattina erano già riusciti a entrare la piazza e si stanno assembrando sempre più persone. Mentre giungono notizie che dall'università le delegazioni italiane sono state fermate e bloccate sempre dalla polizia con lo stesso metodo che vediamo per questa piazza. Qui sono stati già dati tre avvisi per lo sgommero ma come vedete la gente è intenzionata di arrestare, anzi sta arrivando, sempre più numerosa. Adesso la polizia come vedete si è schierata per provare a fare eruzione in piazza. Probabilmente le forme che vedremo saranno quelle della resistenza civile come abbiamo visto ieri per lo sgommero della accampata sotto l'Abissie. Ciao. Siamo tutti qua? Dove siete? Siamo qua. Qua. Siamo andati prima dall'università soltanto? Chiama tutti. Hanno caricato? No non caricano, loro adesso faranno l'esistenza civile. No, dico l'università, sono andati prima. Sì. Dove state voi? Siamo medicina. Vieni, venga qua, poi dopo. Come vedete i manifestanti mostrano alla polizia la carta costituzionale tedesca che in questo momento sta intervenendo. La polizia sta entrando nella piazza in questo momento. la polizia sta entrando in questo momento. la polizia sta entrando in questo momento.